Buonasera, l'ex ministro dell'interno e presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, ha compiuto oggi un tour in provincia d'Imperio in vista delle elezioni regionali. Maroni è stato prima a Ventimiglia, poi ad Imperio dove ha incontrato gli attivisti impegnati nella campagna contro l'immigrazione. Sentiamo. Onorevole Maroni, prima la Lega doveva andare da sola, adesso si è ritrovata in unità con Forza Italia e si corre per la regione Liguria. Si corre per vincere per la regione Liguria, non solo per partecipare. Penso che questo accordo fatto da Salvini ci consentirà di vincere. Ci sono le condizioni, siamo molto determinati a riprendere il governo di questa bellissima regione. Un accordo che potrà servire anche per vincere in Veneto. Sì, certo, l'obiettivo è di vincere sia in Veneto che in Liguria. L'immigrazione rimane uno dei temi sempre come cavallo di battaglia, diciamo. C'è questo gazebo, questa raccolta di firme adesso per così provocatoriamente dire agli italiani è meglio chiedere asilo politico all'Italia che essere italiani. Sì, perché si sta andando verso una situazione in cui chi entra clandestinamente in Italia ha più diritti di chi è cittadino italiano. E' questo che noi contrastiamo e lo diciamo con le parole forti di Salvini, con queste iniziative e con i numeri. Quando io ero ministro 4.406 immigrati sbarcati nel 2010, adesso oltre 170.000, c'è una piccola differenza. Chi sopporta il peso di questi clandestini? Non chiamiamoli profughi, chiamiamoli con il loro nome. Sono clandestini, cioè non hanno diritto a stare secondo le leggi italiane. Vanno presi, identificati e rimandati al loro paese. Questo avviene? No. Vengono distribuite sul territorio, vengono tolte risorse ai comuni per utilizzarle per chi non ha diritto a stare e questa è la violazione delle leggi italiane. Noi denunciamo questo fatto con grande forza e mi pare che i cittadini la pensino assolutamente come noi. E per la Liguria quali sono gli altri temi che la Lega sente caldi? Beh, sono quelli di cambiare questo governo, il governo della regione e di investire molto sui territori, cosa che noi sappiamo fare. E poi, io lo dico da governatore della Lombardia, ovviamente sono molto interessato a sapere e a capire quello che succede in Liguria perché ci sono tanti progetti che abbiamo in animo di sviluppare con la Liguria che finora non siamo riusciti a mettere in campo per ragioni politiche, per le solite questioni ideologiche. E se Liguria avverrà il cambio di governo sarà un vantaggio anche da questo punto di vista. Anche per il turismo quindi, sappiamo che la Lombardia è un bacino storico per i Liguri, per quello che riguarda il flusso turistico. Sì, non solo per questo flusso tradizionale ma perché ci sono iniziative che io ho pensato per sfruttare Expo, saranno 20 milioni di visitatori, è chiaro che molti di questi dovranno, potranno trovare e visitare la Liguria, innamorarsi della Liguria e tornare non solo nei sei mesi di Expo ma almeno nei sei anni successivi. Siccome l'Expo sta in Lombardia e il mare sta in Liguria, vediamo di fare un accordo per sfruttare questa straordinaria occasione che non capiterà più per i prossimi cento anni. Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sarà a Genova martedì. Scopo della visita, l'assegnazione dei fondi per la messa in sicurezza del Bisagno e del Feregiano, in particolare in un servizio. Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sarà a Genova martedì per chiudere in modo definitivo il capitolo dei fondi per la messa in sicurezza del Bisagno e del Feregiano, le cui esondazioni negli ultimi quattro anni hanno causato morte e distruzione. Il programma è ancora da confermare, ma Renzi dovrebbe visitare i cantieri sul Bisagno, dove stanno per iniziare i lavori di rifacimento della copertura e quelli dello scolmatore del rio Feregiano. La firma dei protocolli di intesa per l'erogazione di oltre 300 milioni di euro per il terzo lotto dei lavori della copertura del Bisagno, per lo scolmatore del Bisagno e per l'innesto dei due corsi d'acqua nello scolmatore del Feregiano, dovrebbe invece avvenire nel pomeriggio nella sede della Regione. Matteo Renzi, inoltre, dovrebbe firmare anche un protocollo di intesa per il conferimento di circa 20 milioni per l'ampliamento dell'Istituto Italiano di Tecnologia al Polo degli Erzelli. Sembra sia stata trovata un'intesa tra il gruppo Liguria Cambia, che fa capo al sindaco d'Imperia, Carlo Capacci, e Raffaella Paita, candidata alla presidenza della Regione per il PD. Capacci e Paita hanno infatti annunciato una conferenza stampa, poi rinviata per motivi organizzativi, per ufficializzare l'alleanza nella corsa elettorale, che nei giorni scorsi sembrava essere stata compromessa dal mancato inserimento nel listino della Paita di Ezio Capurio e di Liguria Cambia. La ritrovata armonia evita possibili scorsoni anche nella maggioranza del Comune d'Imperia, sostenuta dal PD. E dal Comune d'Imperia in arriva una nuova stangata per i cittadini. Sono infatti previsti aumenti nelle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, dovuti alla mancata realizzazione della nuova discarica di colletti Ozzotto, bloccata dalla magistratura. Sentiamo. Nuova stangata in vista per i cittadini imperiesi e non solo. Il Consiglio Comunale del prossimo 16 aprile dovrà infatti approvare nuove tariffe per la Tari, la tassa legata allo smaltimento dei rifiuti, che sarà aumentata del 4%, un aumento che facilmente riguarderà poi anche tutti gli altri comuni della provincia d'Imperia. In questo modo dovranno infatti essere coperti i costi lievitati per lo smaltimento dei rifiuti a seguito della mancata realizzazione dell'8-5 della discarica di colletti Ozzotto, stoppato dall'inchiesta aperta dalla magistratura imperiese. Il trasporto dei rifiuti imperiesi fuori Regione ha infatti un costo che, in base alle nuove disposizioni di legge, deve essere interamente assorbito dalla collettività e non può nemmeno in minima parte essere ammortizzato dai comuni. Praticamente ancora una volta a mettere mano al portafoglio saranno i cittadini e in modo particolare le attività commerciali, già duramente colpite da una crisi che non accenna affatto a diminuire. E scatta il conto alla rovescia per l'entrata in vigore dell'autocertificazione dei redditi. Sembra però che il modello 730 precompilato stia per rivelarsi un flop. Sentiamo perché. Conto alla rovescia per l'autodichiarazione dei redditi, ma su 730 precompilato incombe un rischio flop. La denuncia arriva da una ricerca di confesercenti che ha calcolato come all'autodichiarazione ricorrerà soltanto un contribuente su quattro, appena il 25% degli italiani. Quasi il doppio, il 47%, invece, continuerà a rivolgersi al proprio centro di assistenza fiscale di fiducia, mentre il restante 28% chiederà aiuto ad un commercialista. E questo, nonostante l'85% dei contribuenti, sia a conoscenza della rivoluzione informatica per semplificare il fisco al via il 15 aprile, ed il 66% abbia già fatto richiesta delle credenziali fisco online o del PIN dispositivo dei servizi online dell'Inps, necessarie per accedere al servizio. Insomma, gli italiani conoscono le novità informatiche, ma sembra non ne abbiano ancora grande fiducia. E sempre in tema di fisco, arriverà il 23 aprile all'esame della Camera il documento di economia e finanza varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il Premier Matteo Renzi ha garantito che non ci saranno nuove tasse. Sentiamo. Arriverà il 23 aprile all'esame della Camera il documento di economia e finanza varata dal Consiglio dei Ministri, sulla cui base il Premier Matteo Renzi ha assicurato che non ci saranno nuove tasse. La crescita del PIN è stata confermata allo 0,7% nel 2015, all'1,4% nel 2016, all'1,5% nel 2017 e all'1,4% nel 2018. Le privatizzazioni frutteranno l'1,7 o 1,8 punti del PIN spalmati in quattro anni. Sulle aspettative attorno al cosiddetto tesoretto di 1,6 miliardi il Presidente del Consiglio non si è sbilanciato. Non è il DEF il luogo nel quale decidere a cosa destinare quelle risorse, ha detto Renzi, spiegando tra l'altro che non sono soldi frutto dei maggiori spazi che il Governo può sfruttare nel rapporto deficit-PIL grazie alla flessibilità sul bilancio concessa dall'Unione Europea. Il documento sarà ora inviato alle Camere e poi a Bruxelles, dove sarà esaminato dalla Commissione UE, soprattutto in relazione agli obiettivi di finanza pubblica. Renzi ha poi spiegato tagli alle Regioni e ai Comuni. Se mai, ha spiegato, ci saranno delle razionalizzazioni nella spesa sanitaria. Martedì 21 aprile il Ministro dell'Economia Giancarlo Padoan porterà in Consiglio dei Ministri parte dei decreti fiscali, mentre la seconda parte arriverà a giugno. Il Prefetto d'Imperia, Silvana Tizzano, ha ricevuto in Prefettura il Prefetto Bertrand Cadien, incaricato dal Governo francese per la cooperazione delle aree di confine. Si è trattato della prima visita che l'alto funzionario ha effettuato nell'ambito di un programma volto a verificare sul campo alcuni aspetti che riguardano in modo peculiare le aree trasfrontaliere, dalla sicurezza ai trasporti al lavoro all'assistenza sanitaria, anche al fine di individuare i competenti interlocutori istituzionali per possibili profili di cooperazione operativa tra i due Paesi. Molteplici temi affrontati, fra i quali il trasporto su rotaia nella Val del Roia, attraversata dalla linea ferroviaria 20 miglia Cuneo, che interessi comuni sia del versante italiano sia di quello francese, nonché le problematiche degli italiani che lavorano in Francia. Per la cronaca, ora è ufficiale, l'auto blu del sindaco d'Imperia fu sabotata e quanto stabilito dalla perizia fatta eseguire dalla Procura della Repubblica d'Imperia in riferimento ai fatti risalenti al dicembre scorso, i particolari e non servizi. Quello messo a segno ai danni dell'auto blu del comune d'Imperia usata da sindaco e assessori nella notte fra l'8 e il 9 dicembre scorsi fu un vero e proprio sabotaggio. Lo ha stabilito la perizia fatta eseguire sul veicolo dalla Procura della Repubblica Imperiese che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. Una o più persone, al momento ancora ignote, aprirono l'auto rimessa a fianco del palazzo comunale e una volta all'interno staccarono l'impianto frenante e quello del carburante dell'Audi A4 normalmente utilizzata da sindaco e assessori. A scoprire l'accaduto fu al mattino l'autista del sindaco. Forse un atto intimidatorio, considerato che se fosse stato staccato soltanto l'impianto frenante e non quello di alimentazione del carburante, il veicolo si sarebbe normalmente avviato e sarebbe potuto accadere un grave incidente. Le indagini per risalire all'autore o agli autori del gesto sono tutt'ora in corso e se ne occupano il procuratore aggiunto grazie a Pradella e i poliziotti della Digos della Questura Imperiese che nei mesi scorsi hanno già interrogato numerosi dipendenti comunali. Pestaggio fra adolescenti. La scorsa notte in via ospedale ad Imperio un gruppo di ragazzini ha aggredito un coetaneo. Un residente intervenuto per fermare il pestaggio e è stato a sua volta aggredito. All'arrivo dalla polizia però il gruppo di teppisti si era già allontanato ed ora sono in corso indagini per risalire all'identificazione dei protagonisti del grave episodio che pare siano tutti italiani. I carabinieri di Bordighera ieri sera hanno arrestato un magrebino di 26 anni pregiudicato, accusato di essere l'autore di uno scippo ai danni di una turista avvenuto lo scorso 9 aprile nei pressi del porto della città delle Palme. La donna di 64 anni nell'occasione aveva riportato nella contusione di una mano con una prognosi di 10 giorni. L'arresto è giunto a seguito di una serie di indagini messe in atto dai carabinieri subito dopo il fatto. Noi facciamo una breve pausa, poi la seconda parte del giornale. Ha preso il via oggi all'imperio in Borgomarina alla sedicesima edizione di Solevento manifestazione organizzata dall'assessorata alla cultura, manifestazioni e sport del comune capoluogo sulla spiaggia d'oro aquiloni giganti sportivi tradizionali ed acrobatici danno vita a spettacolari esibizioni, mentre tutto intorno si sviluppa il villaggio dedicato all'aquilonismo e all'energia del vento. Vediamo. Assessore Strescino, allora via questo Solevento, gli ingredienti ci sono entrambi direi, anche tanta gente in questa prima giornata e ci si prepara adesso alla domenica. Beh, indubbiamente sì, fortunatamente Solevento è Solevento, siamo abbastanza fortunati oggi, anzi direi molto fortunati, le previsioni per domani sono buone, appena si è aperta, possiamo dirlo, la festa, perché questa credo si possa definire una festa, perché ci sono le famiglie, i nonni, i genitori, i bambini ed è questo l'obiettivo dell'amministrazione, cercare di occupare in senso positivo gli spazi pubblici, moltiplicare le iniziative, in un momento che è estremamente difficile e complicato per tutte le pubbliche amministrazioni, ma cercando insomma di andare incontro alle esigenze degli imperiesi, dei commercianti, delle famiglie e magari anche dei turisti. Le evoluzioni degli aquiloni, alcuni spettacolari sulla spiaggia e poi Borgo Marina che vive con un villaggio dedicato a Solevento e tanti giochi per i bambini. Beh sì, diciamo che Solevento grazie a Espansione 20, a Paola Savella, raggiunge la sedicesima edizione e sono tante, come ogni edizione se si è un patente quelle dopo si migliorano e Solevento secondo me oggi è un vero e proprio villaggio come giustamente dicevi tu, in mezzo a un borgo e queste sono le capacità del nostro territorio e dobbiamo cercare di sfruttarle. Anche domani, domenica ricca? Domani sì, le evoluzioni come dicevi, abbiamo due guest star di livello internazionale per quanto riguarda gli aquiloni, ma tantissime iniziative, tantissime associazioni di volontariato sociali coinvolte e credo che questo sia davvero il volto positivo della città d'Imperio. Qualche orario per la giornata domenicale? Ma da mattina a sera. Vorrei regalarti un cielo d'agosto E domani al Monte Calvario di Imperia, a partire dalle 14 nel piazzale Antistante il santuario, si terranno i primi festeggiamenti per la festa della misericordia con recita della coroncina ed altre preghiere e canti. La festa fu istituita da Papa San Giovanni Paolo II la prima domenica dopo Pasqua, dette in Albis. Le parole della coroncina della misericordia furono rivelate da Gesù alla suora Faustina Kowalska, una religiosa polacca appartenente alla congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della misericordia. E domani Dolciacqua festeggia i 30 anni della locale protezione civile intitolata a Roberto Bernardinello, vigile del fuoco, eroicamente perito nel tentativo di salvare due pescatori nel torrente Nervia. Le celebrazioni inizieranno alle 11 con la Santa Messa. Poi seguirà la consegna degli attestati di benemerenza e i vecchi volontari. Dopo il pranzo sociale alle 15.30 verrà effettuata un'esercitazione antincendio che evidenzierà nelle varie fasi di spegnimento e soccorso dei feriti la principale attività di tutti i colpi che saranno coinvolti. E sempre domani alle 9.30 davanti a un monumento di Nicuni nel comune di Prelano e l'immediata entroterra imperiese, l'Istituto Storico della Resistenza, la sezione dell'Ampi ed Imperio e la figuella dell'Alprino ricorderanno i partigiani caduti per la libertà. Relatori saranno Giuseppe Rainizio, Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e il Professor Roberto Moriano. Ricordiamo che lunedì sera su Imperia TV torna direttamente con voi. Ospiti in studio e in diretta a partire dalle 21.00, consiglieri regionali di centrodestra e centrosinistra che si affronteranno in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Bene, ora i consigli dell'Auto Fiori, poi il quadro a meteo. Con il fine settimana si sono conclusi tutti i lavori sulla A10 nel tratto di competenza Savonna-Confine di Stato. L'autostrada sarà quindi libera da cantiere, ma gli automobilisti possono avere informazioni utili attraverso i pannelli e messaggio variabile, dislocati su tutto il percorso, che segnalano in tempo reale eventuali ostacoli alla circolazione. A chi si mette in viaggio si raccomanda come sempre al rispetto delle regole del Codice della strada la massima attenzione e prudenza. Vediamo allora le previsioni del tempo per questo weekend. Il meteo è di Arpa al meteo Liguria. Domani, domenica 12 aprile, foschie nell'interno ed ancora qualche nube residua di primo mattino. Poi ritorno a condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, con al più qualche addensamento poi meridiano sui rilievi sul Levante da metà fine pomeriggio. Omedità su valori medio-alti, venti deboli variabili da nord-est sull'imperiesi in mattinata, in attenuazione fino a calmi, salvo qualche rinforzo di brezza da nord-ovest sullo spezzino nel pomeriggio. Mare in prevalenza poco mosso. Dopodomani, lunedì 13 aprile, l'ulteriore aumento della pressione comporta tempo in prevalenza stabile e mite, caratterizzato da temperaturi in ulteriore aumento, possibili andensamenti e locali foschie fino all'inizio metà mattinata, ma in graduale dissolvimento. Omedità su valori medi, venti deboli, regime di brezza, il mare poco mosso o quasi calmo. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento alle prossime edizioni, grazie per essere stati con noi. Buona serata e buona domenica.